I dati che abbiamo, che mi vengono trasmessi dal Ministero, sono dati particolarmente allarmanti, sono dati su cui dobbiamo riflettere, ecco perché dico basta questa follia, basta parlare in continuazione di una cosa che è sicuramente importante ma stanno facendo qualcosa di troppo grave. L'Abruzzo è almeno a oggi fuori, non ci siamo fatti prendere come governo regionale da queste indicazioni che ci vengono, stiamo rispettando quelli che sono i protocolli, devono essere i medici e i tecnici a dettare le regole, non la politica o quei tuttologi che sento parlare, i medici ci dicono i protocolli e noi rispettiamo i protocolli, oltre a questo credo che non si debba andare.